Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Carlo Conti, noto conduttore televisivo, prenderà in mano le redini del Festival di Sanremo 2025, succedendo ad Amadeus. Conti ha già ricoperto il ruolo di direttore artistico e conduttore per tre edizioni, dal 2015 al 2017, dimostrando la sua esperienza e capacità. Oltre a questo prestigioso incarico, a partire dal 20 settembre 2024, lo vedremo alla guida di tale e quale show su Rai 1. Il conduttore toscano è sposato con Francesca Vaccaro, dalla quale ha avuto un figlio nel 2014, Matteo, che ha attualmente 10 anni e assomiglia molto al padre. La coppia ha affrontato alti e bassi nella loro relazione, ma alla fine sono riusciti a formare una famiglia unita, arricchita dalla nascita di Matteo. Durante il Festival di Sanremo 2025, potremmo vedere Francesca Vaccaro e Matteo sostenere Carlo Conti dalle prime file, così come faceva la famiglia di Amadeus con Giovanna Civitillo e Gios. Inoltre, Conti ha un rapporto speciale con Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi, defunto conduttore televisivo, che lo chiama affettuosamente Babbo, come faceva il padre. La morte di Frizzi ha avuto un impatto profondo su Conti, che ha riflettuto sull'importanza della famiglia e dell'unione. Questo tragico evento ha rafforzato la sua convinzione sull'importanza di coltivare i legami affettivi e di vivere la vita con consapevolezza. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 sarà sicuramente un momento emozionante e carico di significato, non solo per lui ma anche per la sua famiglia e per tutti.